è una storia più semplice, dopo di loro abbiamo finito grazie per essere stati qui fuori avete fatto proprio un'ottima scelta oggi seguire il sacco, grazie dopo sempre tocco a te un attimo di silenzio ancora dopo John ci sei tu 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.